Voglio invitarvi, venerdì prossimo, 25 marzo, ad essere presenti in cattedrale alle ore 17. In quell'ora a Roma Papa Francesco consacrerà la Russia e l'Ucraina al Cuore Immacolato di Maria e ha rivolto un appello a tutte le diocesi del mondo a unirsi, possibilmente in contemporanea, alla sua preghiera. Abbiamo raccolto questo appello e in cattedrale alle ore 17 ci collegheremo proprio direttamente con la celebrazione papale e ci uniremo proprio in spirito di preghiera a Papa Francesco. Penso che sia un momento importante. Chi di noi in questi giorni non ha cercato attraverso la preghiera, attraverso gesti di condivisione, di stare vicini al popolo ucraino in modo particolare, però penso anche alle sofferenze che anche gli stessi soldati invasori possono soffrire, patire. Ecco, chi di noi non ha cercato di star vicino alle persone concrete che nella loro quotidianità perdono la vita o vedono i loro legami affettivi spezzarsi per il lutto, per la violenza, per le distruzioni immane che tutti e tutto coinvolgono. Ecco, mi sembra che anche questo momento comunitario possa essere un modo concreto per dire che desideriamo la pace, che auguriamo la pace e la chiediamo all'unico che può toccare i cuori, convertire i cuori e sicuramente far cadere le armi dalle mani dei violenti e ricomporre la concordia e la pace.